Era altamente probabile, così è stato, che il presidente del Consiglio Comunale Francesco Panteca reagisse allo sfogo manifestato ieri del consigliere comunale della lista russo.franco Alberto Pasino. Il nodo della discordia è la convocazione della Commissione Trasparenza, volta ad affrontare una discussione in merito al caso dei dipendenti museali di Eurepromos, che da tempo lamentano lo scarsissimo trattamento economico a loro corrisposto. Pasino, in qualità di presidente di quella commissione, ha inoltrato domanda di convocazione. Panteca ha stoppato la richiesta, affermando che non sia argomento pertinente alla commissione, che la richiesta della seduta non sia pervenuta in modo corretto e che per la stessa si potrebbe configurare un danno erariale, visto che si convocherebbe un incontro a vuoto proprio perché non ha argomento da affrontare in quella sede. Ma come detto, nella reazione del presidente d'aula c'è di più. Lo stesso Pasino, nel denunciare che questa censura sia inappropriata, ha anche evidenziato come lo strumento della commissione trasparenza nella sua regolamentazione andrebbe rivisto. Inizialmente anche Panteca aveva convenuto sulla necessità di revisionare alcuni aspetti, ma dopo la rigida posizione di ieri del consigliere di Punto Franco, questa apertura è venuta meno. Questa mattina ci siamo sentiti, ci siamo sentiti alle nove, si è un po' raffreddata questa cosa, mi sembra naturale che si raffreddi un pochettino in questo momento, ma io penso poi che in fortuna le istituzioni non è che possano stare dietro a queste cose. Io dalla commissione trasparenza non ho mai ricevuto nessuna decisione assunta dalla commissione. Questo è previsto, lo prevede l'articolo 16 del Consiglio Comunale, di informare delle decisioni assunte il presidente del Consiglio, ma anche il sindaco, ma io di nessuna commissione trasparenza questo l'ho mai ricevuto. Si vede che viaggiano liberamente e lavorano come meglio credo. Pasino, dal canto suo, ha chiuso con polemica un post apparso su Facebook, nel quale ha dedotto, riportiamo, che al presidente Panteca evidentemente stanno bene le pessime regole della trasparenza oggi vigenti e che al presidente deve far davvero paura che si affronti l'argomento Euro e Promos. Sempre più, conclude Pasino, mi convinco non sia adeguato al ruolo che ricopre.